Voglio approfittare dell'occasione di Lidia in mezzo a noi per chiederle un messaggio a tutti gli amici di Ore 11 che ci seguono sul sito. Cosa ti viene da dire a questi amici che la maggior parte già ti conoscono? La prima cosa mi viene da dire è che la verifica della serietà del progetto è anche legata agli anni che passano, perché le situazioni si cambiano attraverso la formazione e la formazione richiede tempo. E allora credo che una cosa che caratterizzi Ore 11 è proprio la cura della formazione, della formazione biblica, della formazione umana, della formazione spirituale e sociale. Allora io auguro che questo tipo di formazione dia vita a nuovi quadri, a nuove persone che hanno voglia di portare avanti questa passione che Ore 11 ci sempre più diventi mentore di generazioni nuove che portano avanti la passione per costruire un mondo diverso.